Buongiorno, sono Alessandro Melis, presidente della società Residenze nei Caraivi, SRL. Siamo qui nel nostro progetto alla Sterrenas, il residenziale Stella di Mare. Come potete vedere alle mie spalle il secondo blocco di quattro appartamenti che è in costruzione. Abbiamo un progetto di un totale di 14 appartamenti. Il primo blocco, questo che vedete alle mie spalle, è prevista la consegna per dicembre. Sono quattro appartamenti di due tipologie, appartamenti con una camera da letto e appartamenti con due camere e due bagni. Oggi vi proponiamo un'offerta. Tutti coloro che prenoteranno i nostri appartamenti entro il 15 novembre, gli stessi verranno consegnati completamente arredati. I prezzi e i dettagli li trovate sul sito di santodomingolive.org e con il nostro amico Giuseppe. Tanti saluti.